La connessione che di fatto esiste tra l'aeroporto di Grottaglia e il porto di Taranto è evidente fu alla base delle politiche espansive degli anni 70 e 80 del 900. In quegli anni si pensava già all'alternativa alla monocultura siderurgica che si era impadronita della città di tutto e di più sotto la spinta dell'egemonia sindacale, lasciatemelo dire, in un periodo in cui per esempio la CGL era così forte da determinare il raddoppio della stessa ILVA e delle aziende di un vastissimo indotto fatto per lo più da fornitori dell'Ital Sider. La democrazia cristiana che volle il siderurgico a Taranto nel 60, un decennio dopo quasi abdicò alla sinistra, iniziando invece a pensare ad altro e così venne realizzato con la spinta dell'allora parlamentare Mario Mazzarino il molo polisettoriale come la superstrada che collegava e collega i moli del nostro porto all'aeroporto di Grottaglie. Ma poi ci sono voluti decenni, tanti, per riempire quelle grandi opere pubbliche di contenuti. Al polisettoriale prima Evergreen e oggi Ilport e l'aeroporto di Grottaglie inserito nei primi anni del 2000 nel piano regionale dei trasporti dall'allora assessore Pietro Franzoso con una destinazione cargo che oggi sembra muovere i primi passi. Ho raccontato in estrema sintesi, non me ne vogliate, 50 anni di storia in mezzo elezioni politiche e amministrative, tante, drammi politici personali e di comunità, il pensiero unico ma anche, e sì, il populismo becero, inchieste giudiziarie, condanne e assoluzioni. Ma le incompiute restano a pretendere per questo territorio davvero un cambio di passo, a iniziare dai giochi del Mediterraneo in arrivo, lavorare tutti assieme per fare davvero una bella figura con questi giochi e non consentendo a nessuno di mettere i classici bastoni tra le ruote.